Knauf è una multinazionale di origine tedesca, siamo presenti in tutto il mondo, quindi abbiamo più di 250 stabilimenti in più di 60 paesi. In Italia siamo presenti dagli anni 70, in Toscana, quindi è una bella regione anche molto legata al territorio. Knauf è presente a Klimhaus da molti anni in qualità di espositore ma anche di partner perché siamo qui presso l'area a NIT e partecipiamo anche ogni anno ai vari convegni e seminari che riguardano l'efficienza energetica e il risparmio energetico. Quest'anno in particolare siamo presenti a Klimhaus con diversi argomenti, solitamente collegati all'argomento centrale che è il conforto abitativo e la sostenibilità. presentiamo le nostre divisioni che riguardano il conforto abitativo, quindi Knauf Involucro, ma anche Knauf Acustica e Knauf Sottofondi, tutto ciò che è attinente all'isolamento termoacustico e alle prestazioni per far stare bene le persone nel proprio ambiente. In particolare Knauf Involucro lo presentiamo con i vari sistemi che sono sistemi di punta, tra cui il sistema acquapanel per il tamponamento esterno degli edifici esistenti o nuovi, il capotto, sistema capotto Knauf che può essere abbinato o no al tamponamento acquapanel e poi il sistema isolamento per interni che riguarda vari interventi di ristorazione oppure anche sul nuovo che può riguardare controparetti o lastre accoppiate come questa novità che presentiamo a Klimhaus che è la nuova isolastra Knauf XD Energy. La Knauf XD Energy è un'isolastra quindi che è realizzata con la lastra Diamant che è un po' la punta di diamante dell'offerta di Knauf visto che è iperprestazionale per quanto riguarda l'isolamento termoacustico, l'isolamento anche protezione passiva al fuoco e anche idrorepelente e accoppiata a questo isolante in polistirene estruso X Energy e permette di raggiungere ottime prestazioni. Knauf come nuovo payoff all'interno della loro campagna istituzionale che presentiamo anche in fiera attorno ai valori fondamentali che sono la sostenibilità e l'innovazione presenta in anteprima questo nuovo servizio che è Knauf Recycling che è un servizio di recupero e riciclo della materia prima che sono le lastre in cartongesso permettendo di questa maniera ai progettisti e comunque in particolare alle imprese di costruzione e agli applicatori di avere un servizio di recupero degli scarti di gesso per seguire nel miglior modo il rispetto delle leggi e permettere a questi scarti di essere reintegrati nel ciclo di vita del prodotto quindi andiamo a dividere la lastra in due parti dividiamo il cartone dal gesso e reintegramo il tutto all'interno del sistema di produzione per creare nuove lastre di gesso rivestito